è sicuramente finita e questo si era capito, però in un certo senso ha ragione anche Lupi, teniamo insieme le cose, perché è vero, è il passo indietro di Berlusconi, è la certificazione che i numeri non l'aveva, però è anche un passo avanti rispetto ai giochi, perché tutto era bloccato dalla permanenza di Berlusconi. Oggi tutta la giornata è stata una specie di teatro anche dell'assurdo, tutti in attesa, tutti in attesa, nessuno incontrava più nessuno o comunque il grande ostacolo era questo, che cosa voleva fare Silvio Berlusconi, quindi ha sgombrato in questo momento il campo perlomeno dalla sua decisione, poi tutto il resto è da vedersi, però insomma era questo che aspettava anche il centro-sinistra. Mi domando Bettini, se il passo indietro e il passo di lato, la famosa differenza fra fare un passo indietro e quindi dire decidete pure voi e fare un passo di lato e dire io...